Oggi prepareremo le gelatine alla fragola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 17 minuti circa. Gli ingredienti sono succo di fragole, zucchero e fogli di gelatina di colla di pesce. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale il tutto di fragola e lo zucchero. E andiamo a cuocere il tutto per 15 minuti. Temperatura paroma, velocità 2. Nel frattempo andiamo ad ammollare i fogli di gelatina di colla di pesce. Adesso andiamo ad aggiungere i nostri fogli di gelatina di colla di pesce. e continuiamo la cottura per altri 2 minuti. Temperatura paroma, velocità 2. Il nostro composto è pronto, andiamolo a trasferire in un boccale e andiamo a riempire i nostri stampini. Andiamo a prendere sempre degli stampini in silicone e andiamo a riempire. riempiti i nostri stampini. Andiamo a riporli in frigo per almeno 4 ore. Gelatine alla fragola. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.